Speratevi benvenuti alla differenza con la versione originale, grazie mille Rufus, allora questa versione qui, la Kaizo V, è una Kaizo su Pokémon Smeraldo, come vedi ci sono 5 generazioni invece che 4 perché ci sono le mosse e le abilità di 5 gen, c'è lo split tra le mosse fisiche e le speciali, questa versione è una versione molto più difficile delle Kaizo, insomma, queste finora, è tutta reworkata anche a livello estetico, vedrai che questo percorso nel gioco originale di Pokémon Smeraldo non esiste, l'abbiamo creato apposta per evitare la zona di farming che era bruttina e disordinata, abbiamo creato questo percorso di farming molto più bello, vedi un po' più ordinato e bellino, è basato tutto su Pokémon Smeraldo, sebbene di Smeraldo abbia sì le musiche, sì appunto l'estetica, sì la lore, ma poi bene o male si ferma lì, è tutto reworkato anche a livello di gameplay, perché appunto è più bello mi viene da dire, e basta, quindi per giocarla al momento non si gioca tramite il download di un emulatore come si è abituati, di solito bisogna scaricare l'emulatore, una volta scaricato l'emulatore bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro eccetera, ecco questo qui si si gioca tutto su un sito che si chiama Startaby, ti iscrivi lunedì per un periodo di circa un mese, i miei abbonati potranno avere accesso al sistema di emulazione che ti promette di giocare alla Kaizo V senza dover scaricare niente, mentre se non sei abbonato dovrai aspettare a febbraio quando tutto questo sistema, l'accesso al sito verrà reso completamente free a tutti e potrete giocare tutti quanti. Tex grazie per il nono, grazie Steph, Sigilif si il mio eroe te l'amor de dio, interessante, interessante, è veramente reale, Zenebba te stab bro, bro c'hai due stab, bro buttalo via, chiude gli occhi e trasta il Sigilifo. Penso io a salvare Napoli, non temete miei amici del sud, però se il signor Poli comunque mostrerà il buco del culo sarà cosa buona e giusta e tu pesce del cazzo, non rompere le palle e statene a Barletta che ora ho da fare. Dov'è Barletta? È in Puglia e dove abita Tullis, da dove viene Tullis Barletta? Per questo lo so, ovviamente, se no cazzo lo sapeva, figurati. Ciotta? Quanto cazzo sei forte Sigilif? Ma quanto cazzo sei forte Sigilif? Telegram, eccoci qua, il costo delle macchine è aumentato dell'8000%, ragazzi, ragazzi, Tullis. Sta minacciando la gola di Bumblebee con una chiave. Veramente parole, ragazzi, missato al 85%. Missato all'85%. Meglio una giornata di pioggia che una giornata a poggia, robottone coglione! Era meglio Stormtrovero, tanto sono morto, zi. Lo kick shotta e via. E si va a letto, dai. Non ci posso credere, ho shottato veramente. Dopo che ho missato due 85%, ho veramente shottato due Pokémon di fila? Wow. Comunque, low kick... In realtà, low kick è meglio dopo, vero? Mentre Stormtro è meglio prima, perché bypassa i crit. Tullis libera immediatamente Bumblebee aoi beaioi. O farò esplodere Caltanissetta e farò tornare al potere King Jinping. Anche se non so se sia mai stato al potere. Ma aveva un nome carino. Non trovate ha un nome veramente kawaii. Tullis, ti prego, non liberare Bumblebee. Ha detto che fai esplodere a Caltanissetta. Ti prego, ti premo, Tullis. Quanti soldi vuoi per non liberarlo? Pesce di merda e Tullis, liberate immediatamente Bumblebee. O porco il chiodo che regge la croce. Vengo a prendervi e vi spano il buco del culo. Così tanto che vi converrà mangiare dal di dietro, piuttosto che dalla bocca. Addirittura ben due ne abbiamo avuti di Optimus vendicativi. Complimenti, ragazzi, complimenti. Edizione straordinaria. Arrestato il noto streamer Turna per aver disobbedito ad un ufficiale che gli aveva ordinato di guardarlo negli occhi. Clamoroso. Ritrovato il cadavere di Creepy Life dopo aver subito perishong dal suo dottore di fiducia. Inutile il tentativo di shottarlo con un bisturi. Ultimora. Mattia Attrice ha emesso il suo ultimo respiro dopo aver strizzato l'occhio un po' troppo alla ragazza di un San Benedettese del Tronto. Ufficiale. È Esplosa Valdagno. Festa in casa Sturniolo. Non è vero, comunque. Non è Esplosa Valdagno. Bella, comunque. Cioè, è eccitato veramente mezza Twitch Italia malissimo, eh. Vai, Sigilip. Esci di qui, porca puttana. Tullis, nutriti di merda. Tullis. Ti aspetto scimmia metallica che si fa chiamare Autobot ormai. Di quel rottame giallo. È arrivato alla fine dei suoi giorni. Succhiami la pinna coglione. Bello, succhiami la pinna coglione, però, eh. Signori, oh, ehi. Out of Brock. Che poi non è Brock, però, ehi. Sì, sì, ormai i giornalisti non si fanno più problemi a dire esattamente quello che pensano. Bro, c'ho tre... Quattro cure! Bro, quattro... Cinque cure! Oh, foli. Più proteina! No, vabbè, brothers. È fatta. Grazie. Bipi Max! Ma chi se la incula l'edizione straordinaria? Liberate ora il mio Autobot, che mi serve per succhiarmi lo scroto metallico Dio. O evoco Mario Sturniolo, in versione Super Saiyan. E poi sto sigilif more, tra una allenatore. Vederemo, questo è tutto da vedere, eh. Questo è tutto da vedere, eh. Let's go! Edizione straordinaria, butta! Prime, dai 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 prime, Altofetra! C'è un... Mannaggia il faro che illumina la sacra sindone. Sono io il vero Optimus Prime. Non me ne frega un cazzo di scroti metallici. A me Bumblebee serve per andare a prendere la droga. Facciamo un accordo, signor Pesce e signor Tullis. Voi mi ridate quella macchina gialla del cazzo. E poi ci andiamo a fare tutti un giro di coca a Napoli. Visto che oramai è salva, offro io e amici come prima. Optimus, razza di frigorifero, impotente del cazzo. Sono il transettone del pesce e di Tullis. Vedi di lasciarli stare o ti mando in cortocircuito il culo. Cagerai stronzi metallici a forma di puglia. Ti uscirà il gargano dall'ano. Pagherai le spese. Parola di pugliese. Ha fatto anche la rima. Pagherai le spese, parola di pugliese. Ha fatto la rima però. Caramello raro! Guarda Telegram. Optimus Suga. Ormai Bumblebee è morto. Non so se si vede ma praticamente pianta la chiave nel corpo di Bumblebee praticamente. Cristo. Nooo Bumblebee amico mio. Ora avrò la mia vendetta. Io sono pazzo e uso Full Restore veramente. No zi. No zi. Anche perché se non la usavo qua ero morto al 100% con la paralisi quindi. Su questo per una Oran Berry. Eh bro però io i livelli li voglio prendere. Col cazzo che lascia indietro tutta roba. Porca troia. Vabbè qua ci sarei dovuto andare tra poco. Eh voglio farle almeno un paio di trainer. I poli poli. Scusami. Ho messato. Ma Dio Bono! Quanto cazzo sto messando? Grazie veramente infinite Remidas. Veramente brooo. Mori! Blaze Geek Stab critico. Boh è destino che io me ne esca da questo posto perché io sto morendo. Fatemi uccidere questi brodi che è l'ultimo. Questo qui. Ok. Pampo. Va bene. A posto. Io continuo a morirci. Eh ma sono difficili eh. Tanti dungeon sono difficili. Qua ho appena usato una Full Restore. e una puzza da 50. Io adesso non sarei morto. Sì c'è. Eh. Ho rifatto veramente fatica. Le due nuclearizzazioni. Me lo ricordo molto bene. Eccolo qua in poster. Eccoci qua. 50% di morire? Beh. Fallito. Che culo. Sì è devastante. Vabbè bro. Ma ci avete di tutto e anche di più. In questa terra di merda. Sing. Eccoci. Volt Take All. Eccoci. Vabbè sì. È Cursed malissimo staranno. Sì staranno è Cursed male 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 male. C'è proprio la cursa. La cursa definitiva. C'è. C'è. Ho utilizzato tutte le cure che ho trovato. C'è. E non bastano ne ancora. Sì Torco e l'air killer ne ho visti tre. Esatto. Più due imposter di già. Boh. Capito che psico e volante non è che siano chissà che cover. Ma puttana merda oh. Il signor Rudy Garcial. Poi vado su Discord. Eccoci qua. Partiamo subito con un bel. Rrrrri. Night Shade. Che fa 26. Per corsa. Adesso entra il Pokemon con la per due. Che spero di shottare. E lo shotto. Livello 33. Vita verde. Low kick. Pesa 100 kg. Golem. Gli salta il cranio. Zen Headbutt. Sul Nido Queen. Che viene smolecolato. Landorus. Ice Punch. Terra volante. Anche lui fa Ice Punch. Più veloci di me. Boh. Non si sa come sia possibile. Acqua Jet. Mossa prioritaria da 40. Skip. E via. Pam. Pam. Via. Aspetta che cambio scena. Ed è già a ti. I'm so proud. Is that good? Ok. Let me know if you want some more. I'm gonna put it in the fridge. Ma chi ha pagato per mettere quella cosa lì? Ma chi cazzo ha pagato per quella roba lì? Peppa! Grazie mille per il Prime. Benvenuto nel ca... Come leggi? Mi la... Did I jump scare you? Yeah, I bet I did. Il colonino dovete togliere immediatamente. Giocherò con il... Giocherò con la tastiera ragazzi. Credo abbia detto un, dos, tres, qua. E neanche lo metto l'audio del gioco. Perché tanto l'audio lo state mettendo voi. Tra Optimus Prime e Goku. Non mi stanno telefonando ragazzi. Però posso dire che quello della chiamata Discord è veramente tra quelli più beitosi. Cioè io penso che sia anche tra quelli che tra più di voi effettivamente vanno a girarsi. Rhyperior! Però questo comunque è il più forte di tutti. Questo comunque... Poi le possiamo abbassare il prezzo di tutto? A fino alla fine della live, Willy, e ti devi ricordare di riportarli come erano prima, puoi dimezzare i prezzi di tutto. La metà. Letteralmente la metà. Puoi dimezzare del 50% tutto. Fino alla fine della live però, eh. Poi mai più, ti... Come si chiama il terzo? Ma voi potete anche scegliere dove... In bocca al lupo! Ragin, poi a editare questo video, eh. In bocca al lupo, Ragin, a editare questo video. Cazzi tu hai, coglione! E piglia fuoco Palermo, cazzo! Ma come fate a spe... Bro, ma quanto è forte lui. Grazie mille Abyss, grazie per la Tier 1, grazie per... Nuovo Poli, ragazzi. Oh, Poli, Poli! Questa è veramente bella. Questa è... Oh, Poli, Poli, Poli! Ma che è sta roba di Crab? Grazie veramente tanto! Attenzione ragazzi! Da questo momento in poi, chi scrive in chat è gay! Interazione con la chat aumentata dell'800%. Via, 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 via! Giupi, giupi, ciana! Mi ha dato un bacio un gatto, credo. Snarl! In realtà non è male, però al posto di cosa metto... Interazione super mega galattica, astro mega puzzolente nel puzzo straordinaria! Ci sono gli sconti su Tanja, spammate più che potete e se scrivete in chat non solo siete gay, ma anche molto come il cognome di Mattia Poli N del Poli Quiz Sborra Show! No, no, Giacomo, no, Giacomo, questa cosa non è vera! È vera dei cosi e non penso che chi scrive in chat sia in qualche modo... Inizione straordinaria! Il noto streamer Mattia N, noto come Poli ha evaso il fisco! Mario Sturinolo è stato arrestato per sbaccio di sostanze stupefacenti! Matteo Salvini è stato ufficialmente invitato al V-Tournament! Sturinolo? Mario Sturinolo? Eeeh... Oh mio Dio! Codo, bello effettivamente... Dio! Ma chi è sto tizio pelato qua? Che... E' tipo uno streamer credo, Jyugio tipo... Ma che cos'è quel palo lì? Ma cos'è quel tubo di ferro che cade? Ma cos'è quel tubo di ferro, zi? Che cazzo è? Un palo? Oh mio Dio! Oh! Poli, poli, poli... Let's go! Buona fortuna Ragin a editare questo video! Buona fortuna, coglione! Buona fortuna Ragin! Ho missato due... Edizione straordinaria? Ragazzi! Un dos, tre squadro... Un dos, tre squadro... Poli, poli, poli... Mi scoppo Sigilith tramite le sue numerose estremità Tutti invitati al matrimonio mio e di Pola Questa è la peggiore ragazzi Questa è veramente la peggiore Ciao ragazzi! Sono qui oggi per dirvi una cosa molto importante Lo so che non ve lo aspettate da una persona come me Ma non riesco più a tenermelo dentro Non il cazzo Ma una cosa molto più grande Quindi lo dico senza girarci troppo attorno Viva il Duc Ato Savoia Ok Ho letto in chat Assurdo come costi così poco Assomigliare a una live di Nanni Edizione straordinaria! Io mi dissocio! Ragazzi, quello che vedete è un impostore Io sono il vero poli Poli La mafia Dario Moccia E Mario Sturniolo mi ha fatto fuori Perché ero ormai diventato scomodo Vi prego Salvatemi Mi hanno intrappolato in una casa in Sicilia Mi si dava posto Mi si dava posto E sento molto caudu qui No no Ma è uno spam senza senso ragazzi È uno spam senza motivo Vuol dire la prigione Non c'è logica dietro a questo spam Ma quanto costano ste cose poi? L' swoje Ma come fa Nanni a streamare in queste condizioni ragazzi? Sono tornato e ora oltre al pesce inutile del TG c'è anche un gatto imberrettato che parla da messicano, poliglotta e poliedrica, questa live. Live, questa live Autobot. Ragazzi, edizione Super Iper Mega Puzzolantibus, chiunque scriva in chat il cognome di Poli riceverà un invito al matrimonio, def e forza. Ho un'idea, a parte che se perdo il... Sì, aspetta che Duffy Duck sta cercando di salvarla la live. Hai visto come ho appena tankato? No, non l'avete visto perché è tutto nero! Ragazzi Sto pensando a una cosa Allora No, a parte che non sai scrivere. Finito. A posto. Questo è tremendo! Allora ragazzi, ho un'idea. Ho una proposta per voi ragazzi. La proposta è la seguente. Quando venerd... Dio, che sta F di merda! Questo è il peggiori di tutti! Questo lo dovete... Allora io ho un'idea. Che è sta roba? Ormai sono solo lì che cerco di capire che cos'è. Allora io domenica vi metto un sub goal per una 12 ore che farei la settimana prossima o quella dopo con tanja a pochissimi bit e sono 12 ore di live di... Magari un po' di allenamento per il pentarog like. Just chatting. Kaizo V. E ci buttiamo dentro qualcos'altro tutto con tanja tipo a 20 bit. Sacred sword! Al posto di low kick bro! Adesso basta. Ragazzi, state spammando troppo. A partire da adesso a ogni donazione mi infilerà il naso di Mario Sturniolo nel deretano. No. Per favore, fatelo in tanti aaaah. No, no, no. No, no, no. Questo no, raga. Questo non ha veramente senso. Non riscattabile durante Dark Souls. Ti ha scattato? Sì, credo che l'ho fatto. In motion no time. Guarda la combo qua, eh. Dico, questo gatto in merda, bro! Questo è il peggiore di tutti! Edizione galattica. Galattica. Il noto streamer Poli! Non nega di aver partecipato alle ultime manifestazioni a Roma ritardando la sua presenza in streaming. E durante la tramissione pronuncia un famoso disorso del 45. Tramissione. Non la trasmissione, la tramissione. Bro, la metà di questi messaggi è in errori comunque! Ma che cazzo è sta roba? Ma poi cosa vuol dire? Ormai è una scusa per attivare quella merda di gatti Ma poi cosa consiste venire zii operati? Bocca al lupo eh Ragini in bocca al lupo editarla questa palestra In bocca al lupo Ragini Nooo non è vero Un, due, tre, squadra, un, due, tre, squadra, un, due, tre, squadra Pronto chi parla? Io sono Poli, cosa volete da me? Come avete fatto ad avere il mio numero di telefono? E poi chi cazzo è che sta parlando? Ma che cazzo No no vabbè Ma non è vero F No quello dell'F va tolto ragazzi Quello dell'F va tolto dai No quello dell'F va tolto Ora obiettiva me Perchè fa così ridere Hog Rider? Oddio c***o ogni volta No ragazzi Ho detto proviamo Vediamo se si regolano Non parla così comunque 50% su tutto Ho detto che fino alla fine della live li lasciavo a discount Ma è completamente ingestibile Non siete veramente in grado di contenervi Bello come io sto facendo quasi il mio record sulla Kaizo V nel mentre Io sarei curioso di sapere quanto è lunga la lista La coda di Perché non so come si vede Eh Marco sì ma Ormai oggi è così Finisce così dai Bocca al lupo raggine editare sta live eh Erano 5 alert di fila che non c'era Effettivamente Era passato troppo tempo Nanni stream questa eh Nanni twitch pill questa eh Questa è Nanni twitch pill Un cinematico Allora ovvio Grazie Emil Mentre grazie Stai zitto pezzo di metallo di merda Un dos tres quattro 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 Cioè mi state dicendo Un dos tres quattro Che questo messaggio del pesce è riferito all'ultimo messaggio di Optimus Prime E saranno passati dieci minuti ragazzi Che cazzo di coda c'è ragazzi Poli Hai per caso sentito quel coglionazzo di mio figlio Alessandro Nanni Piedi Nanni Piedi Ma vabbè Se lo senti Digli che Valeriona È preoccupata Grazie Quello dell'Elecce Paris Pim pum pam Aiuto Poli Pim pum pam Aiutami Poli Un gay Mi sta picchiando Perché questo Picchiando È il momento Sono io che lo sto picchiando E non sono gay Coglionazzo stupido Di un micro sborrabot Edizione straordinaria Questa non è una edizione straordinara Ma Una straordinaria edizione Se sapete più cosa inventarvi Comunque ragazzi Ok comunque Non penso farò la live 12 ore con tangia scompato Ragazzi Non penso proprio Non credo che la faremo Ma non vi siete rotti il cazzo Di spammare in chat Cioè non ne avete le palle piene Di fare sempre Contro il C Contro il V Di quella merda Come cazzo fate A avere ancora voglia di A parte di guardare sta roba Attenzione 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 Grazie per l'attenzione Si va all'etò Cioè completamente È proprio il delirio Cioè veramente Il gusto di farlo E basta Cioè Il gusto di dire qualcosa Poli impara a leggere il mio nickname C'è un H Dio Con questa chiudo Che ho finito il B Giacci Non è F Basta Willy togli quello dell'F Per l'amor della madonna Ti prego togli l'F Willy ti prego Vediamo se faccio il mio record Il titolo del video Il titolo del video sarà qualcosa del tipo Supero il mio record Mentre non capirete un cazzo Guardando questo video Ciao Poli Hai il numero di quel figlio di puttana di Mario Sturniolo Mi deve 10k per della cocaina 10k per della cocaina No 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 il numero di Mario Sturniolo Ma poi è specchiato No 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 ragazzi Non sono stato a casa di Mario Perché me lo dite? Sono morto comunque Pesce di merda Ora chiamerò i miei compagni di merende E ci faremo una bella grigliata con la tua famiglia Pazzesco Muoio sempre da sto tizio io E' assurdo Non ci sono selvatici dove curarmi Ho perso zi Ciao a tutti Sono Mattia Poli E siete tutti ufficialmente Perché c'è Willy Con le immagini di Willy In una condizione portare Almeno 3G di Bamba Pazzesco zi Cioè boh Devi aggiornare subito E' incredibile Sempre questo mi squacca Iaiaiaiaiai Cosa pensi di fare? Stai andando a vederti un video di Luke 4316? No? E allora stai calmo Non c'è nessuna fretta Il mio canale è pieno di contenuti Per carità Fanno tutti cacare Ma perché non dai un occhio a questi video? Questo potrebbe piacerti Guarda che questo va proprio per te Questo quale? Non lo so perché questo audio lo sto registrando Ma non so cosa sto consigliando Grazie a tutti